Sono centinaia i contribuenti a retini che in questi giorni hanno ricevuto le cartelle esattoriali relative ai contributi di bonifica, ossia la cosiddetta tassa dei fossi. Si tratta di cartelle non riscosse negli anni precedenti, in particolar modo quelle relative al 2014. Stanno arrivando avvisi che non abbiamo mandato noi ma mandato Equitalia in ottemperanza della legge 225 del 2016 che permette attraverso la rottamazione delle cartelle un risparmio ai contribuenti del contributo per quanto riguarda la quota interessi. Ricordo che gli avvisi che noi mandiamo annualmente in tutto il territorio sono circa 170.000 e di questi ci sono una parte a cui non viene data la risposta. Voglio precisare che però quando passiamo dall'avviso bonario alla cartellazione vera e propria il numero aumenta esponenzialmente, nel senso che arriviamo alla fine dei salmi a raccogliere oltre il 90% del contributo. Parliamo dell'anno 2014, quanti sono i morosi per quell'anno? Circa 600, ma ci sono anche relativi agli anni antecedenti, ovviamente in maniera minore. Quanti casi negli ultimi anni sono state impugnate queste cartelle? Sono state impugnate queste cartelle ma una parte anche consistente soprattutto i primi anni, ora siamo proprio a poche unità. Tra coloro che hanno ricevuto le cartelle in questi giorni anche alcuni residenti di Via Fossombroni, zona particolarmente colpita dall'ondata di maltempo dello scorso novembre. Visto il servizio non efficiente in cui viene riconosciuto la situazione in cui siamo capitati, penso che il minimo sia a sospendere il pagamento in attesa di qualche soluzione un po' più concreta. Cosa non ha fatto che avrebbe dovuto fare secondo lei il consorzio? I fossi della zona verso la Catona sono comunque insufficienti per la portata di acqua normale, figuriamoci per quella del 6 novembre. In più c'è anche i tombini che sono senza manutenzione quindi non ricevono l'acqua e la fognatura, che è quanto ci risulti. Ultimamente sono stati comunque puliti. Quanti metri d'acqua si è ritrovato in casa quel 6 novembre? Per i fondi è un metro e settanta, un metro e ottanta. Ha perso una macchina? Una macchina di due anni e mezzo e uno scooter, più oggetti personali che comunque è difficile quantificare per quanto affezione ci sia.